Eccomi qua, eccomi qua, dai 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 Ma certo, ma c'è la sedia per mettere Il bello della diretta senza avere le cuffie indossate, pazienza Seconda mia ospitata qui dagli studi di Radio Gamma 5 attraverso la bontà dell'Orenzo Speed che fortunatamente ogni tanto si ricorda anche del vecchio speaker radiofonico degli anni del secolo scorso, sì bisogna dirlo Allora, se mi dai 30 secondi innanzitutto bisogna salutare la persona più importante della mia vita la mamma che mi sta ascoltando dopo tanti anni dopo 30 e passa anni di silenzio radiofonico Ciao mamma Maria, un bacione grande dopodiché anche tanti altri nomi nomi ad esempio Aurora, la piccolina Manuele, Marzia, un'altra Maria il suo maritino Daniele e poi senza dimenticare una certa Cristina e la sua amica che si chiama tra l'altro anche lei Cristina e tutta la banda delle moschettiere che sono in questo momento in ascolto senza dimenticare nessuno ringrazio tutti coloro che vi sono in questo preciso istante sia dalle località di vacanza sia dalla propria casa sia attraverso la propria macchinina magari mentre si stanno recando al lavoro perché c'è anche chi lavora durante le giornate in cui noi possiamo tenere compagnia a tutti voi attraverso questa 94 MHz di Radio Rama 5 appunto dicevo salutiamo tutti e basta io direi che può andare anche bene così altrimenti mi scacciano, mi scacciano ok grazie Max